Libero dalla vegetazione e dai sedimenti che rischiavano di soffocarlo, l'Arno nel cuore di San Giovanni Valdarno adesso ha decisamente cambiato volto. Si tratta infatti di un'operazione da oltre un milione di euro sollecitata dal comune e finanziata dalla regione toscana e progettata e realizzata dal consorzio di bonifica. In questo punto l'Arno si allargava creando una importante erosione, quindi aveva col tempo fatto franare parte della sponda e lasciando il dissesto in atto poteva arrivare ad aggirare anche il ponte a minacciare le infrastrutture presenti nelle vicinanze. Quindi la regione ha concesso questo importante finanziamento che è stato utilizzato per costruire questa sponda con inserimento appunto come vediamo di una scogliera al piede in massi ciclopici e di cinque pennelli che sono delle opere trasversali che servono ad allontanare la corrente di piena dalla sponda. Il nuovo look rappresenta di fatto l'effetto più evidente della maxi operazione che in tempi rapidissimi ha modificato l'area. Un intervento importantissimo realizzato a tempo di record perché abbiamo iniziato i lavori a luglio e adesso diciamo la parte strutturale, la parte più importante dei lavori è già terminata. A dire la verità è stato un intervento portato avanti a tempo di record anche perché abbiamo dovuto e voluto sfruttare il periodo dove la quantità di acqua presente nell'Arno era minore e che permetteva in questo modo di fare entrare in alveo i mezzi per poter appunto lavorare. Mancano adesso solo poche rifiniture ma il corso d'acqua mostra già un bel aspetto e soprattutto un maggior grado di sicurezza. Sicuramente ringraziamo il Consorzio di Bonifia per il lavoro che ha realizzato perché non soltanto ha messo in sicurezza e questo è fondamentale un tratto del nostro fiume ma lo ha restituito alla città, lo ha sicuramente reso più fruibile anche per i nostri cittadini e ora l'impegno che abbiamo già cominciato a mettere in piedi sarà quello di poter ottenere i finanziamenti di nuovo con la regione toscana stiamo lavorando con il Consorzio con il Genio Civile e con la regione toscana per il tratto successivo, quello appunto tra Ponte Fazia e la zona sud di San Giovanni Valdano.